Al Clima House presentiamo due novità fondamentalmente, Mappeterm Flex RP che è un sistema di rasatura elastomerica per il cappotto che supera quello che è il problema più diffuso nell'ambito del cappotto e cioè la resistenza meccanica molto bassa per quanto attiene il pannello o i pannelli coibentanti, opponendo una elasticità e quindi una grande resistenza per urti, colpi e qualsiasi incidente avvenga sul cappotto stesso. L'altro prodotto è la Dursilite Gloss, in questo caso parliamo di una idropittura da interno la quale ha come caratteristica più importante la bassissima presa di sporco e in caso di sporchevolezza la facilissima pulibilità.